Una partita quasi perfetta, vero come dici che Verona è una squadra dove in queste ultime due partite ha ritrovato un buon ritmo, ha fatto dei punti importanti per loro, quindi loro stanno in un momento di motivazione che per noi la partita, come dici, non sarà facile. Noi dobbiamo giocare a quello che sappiamo, a quello che lavoriamo ogni settimana, dobbiamo avere la pala, essere aggressivi tanto nella nostra area come nell'area del Verona, quindi essere fedeli a quello che lavoriamo sempre e che ritroviamo un'altra volta questi tre punti. Sono due le vittorie della Lazio in trasferta in questo campionato, cosa serve per ottenere il massimo anche in questi campi, stadio oggi che va a avviare verso il sold out, quindi a livello ambientale non sarà facile, come si approcciano queste campioni? Come dici, è difficile affrontare le partite un po' fuori casa, alla fine non c'è questa differenza che magari c'è nell'Olimpico, però noi non dobbiamo dare importanza a questa cosa, alla fine noi siamo una squadra che lavora sugli obiettivi, che alla fine sia in casa o sia in trasferta, dobbiamo seguire sulla nostra strada con il gioco, come ti dicevo prima, che se facciamo, tanto in casa, quindi non deve essere un fattore che alla fine ci tolga punti, quindi come ti ho detto, se lavoriamo sulle cose che noi sappiamo, alla fine ritroveremo questa continuità di andare in trasferta e vincere. E poi l'ultima oggi sarà la tua quinta gara consecutiva. Ciao!